Ciao Stefano, resisti eh, abbiamo anche Giulia Salemi che entrerà con te. Ciao ragazzi, resistete fino a venerdì, venerdì farete il vostro ingresso trionfale. Non importa quanto aspetti, ma chi aspetti? Eh certo, Giulia? Io parlo da sola col televisore, coi concorrenti ormai, non mi risponde nessuno. Mi raccomando, se Bettarini ti infila i bigliettini sotto la porta, non ritirarli, perché lui è una vecchia volpe, non ci deve essere. Ho detto che si fa un po' bene. Eh certo, siete vicini di stanza o siete lontani? No, siamo lontanissimi, non ci siamo mai visti, ormai è un mese di quarantena, possiamo dire. Menomale. Ma è così Alfonso, l'attesa aumenta il desiderio e quindi sono felice di tornare in quella casa. Non vediamo l'ora di rivedervi ragazzi.